La scienza e la tecnica sono capacità che il Signore dona a noi uomini e sono realtà che noi possiamo valorizzare proprio per mettere in pratica quello che il Signore ci insegna, non c'è assolutamente contraddizione. Quindi il mio invito, se la cosa può servire, è quello di procedere con le nostre vaccinazioni. Io non mi sono ancora vaccinato perché non è ancora arrivato il mio tempo. Quando sarà il mio turno lo farò subito. In questo momento storico così particolare il cristiano deve continuare a vivere con speranza. Il Vescovo di Padova assicura che è la speranza l'aiuto reale a tutti gli uomini di fede e no. Deve però esserci anche speranza verso la ricerca scientifica e la Chiesa, dal Papa ai Vescovi, si è espressa chiaramente per esempio sui vaccini, ricorda Don Cipolla. Nella giornata del malato e in quella anche del suo 66esimo compleanno, il pastore prima ha visitato di buon mattino i bambini ricoverati in oncoematologia pediatrica, poi ha incontrato direttivo, volontari e famiglie dell'AIL di Padova nella sede di Via Gabelli. Qui come in tutte le nostre realtà di volontariato si vive il Vangelo, il diritto alla vita, ha detto il Vescovo. Continuiamo a contagiarci con il bene, ha concluso.